Grazie a tutti. A dare prodotti sia per quanto riguarda l'ittico, la carne, i vegetali ma anche prodotti freschi. Infatti la nostra azienda ha realizzato numerose partnership con aziende come Fresco Service di Pesaro, Alta Marea e Alma Food proprio per prendere tutti i clienti del canale ORECA, cioè hotel, ristorante e caffè. Due parole per descrivere l'evoluzione della frigoge che è nata 15 anni fa per fare stoccaggio dei prodotti congelati e sorgelati. Poi abbiamo deciso di mettersi anche nel commercio dei prodotti itici e fare importazione. Sulla basso della mia esperienza avuta negli anni precedenti come rappresentante di varie ditte. Oggi abbiamo pensato di fare un'ulteriore evoluzione mettendo insieme anche altre aziende per poter dare un migliore servizio alla clientela che sono i ristoranti, i alberghi, i menze, per poter poi dare anche altri prodotti alla stessa clientela con delle società ditte consorziate, diciamo, in un certo senso. e abbiamo lanciato questo nuovo marchio che si chiama Comune di Cucina che speriamo che ci dia grosse soddisfazioni come è stato per la frigoge in questi 15 anni.